Salve ragazzi e bentornati su Questo su server 2 con una nuova sfida su Tricky Towers Aspetta cambio Va bene è uguale Volevo cambiare personaggio ma va bene Sopravvivenza facile che si fa si deve arrivare su Si deve arrivare su si No no ok c'è un numero di pezzi No 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 qua no Si deve non morire fondamentalmente Sopravvivenza giustamente non si deve morire E' un survival Solo allora nello scorso gameplay Synergo si è impegnato talmente tanto che Non parlava poco e parlava Mentre giocava ma in maniera Molto brava Mi sto impegnando non posso fare Una frase di senso compiuto eh No perchè l'altro gameplay Abbiamo disquisito di diverse cose No dal sushi Fino a parlare del Cristo Re Dicevi? Dicevo abbiamo disquisito Anche del Cristo Re a un certo punto Si delle bestemmie in realtà Le bestemmie Tricky Thomas è un E' un gameplay riflessivo Che ci aiuta a Parlare della vita La morte Si perchè siamo un po' concentrati E un po' sbaccati Sbaccati perchè è una sfida tutto sommato rilassante Porco Dicevo Concentrati perchè la bestemmia parte Ma tu la puoi tranquillamente abortire Per quanto l'aborto sia una cosa di cui discutere In un'altra sede perchè non possiamo Parlarne su un canale di gaming Ma comunque sia Tricky Towers ci da L'opportunità di essere persone migliori Per lo meno quando si discute Amabilmente del Cristo Re Dicevi E no ma come cazzo hai fatto Mi stavo impegnando come una Non lo so Stavo facendo e ho detto muovi Faccio la sparata finale niente Guarda che torre che ti ho fatto Guarda che torre che ti ho fatto Che pezzo di merda guarda Non dire che non ho parlato perchè ho parlato solo io Hai parlato hai parlato Io mi sono impegnato Gli è piatta la fregola Un'altra competizione facile Competizione facile però devi arrivare su Ah ok Prima era sopravvivenza Prima era sopravvivenza Ragazzi dicevamo Cioè noi vorremmo parlare però E c'è un po' di concentrazione Ti devi concentrare Perchè sennò scagli Sì Come quel cantante giamaicano la Scagli Ce le scegli Ignorando Io mi ricordo che noi abbiamo conosciuto Shaggy Noi ragazzini all'epoca L'abbiamo conosciuto con la pubblicità Della Levis Dei jeans Ah boh Che c'era il piccione che cagava Wow messa loba loba Era la bombastica all'epoca Se ti ricordi Non so se ho fatto una cosa buona Sì Indicativamente Non so perchè i miei pezzi si stiano mettendo Porcosata Sì ok madonna che culo ho avuto Ho fatto otto un pezzo Ma ti sta impegnando come una madonna oh Sto giocando bene Perchè sennò mi danno fastidio nei commenti Ho capito però Però io adesso sono in difficoltà Sì vabbè dagli pure i pezzi che Che Non so se ho fatto una cosa buona No 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 Guarda lì Alla fine Guarda lì Guarda la torre Non ci credo Non ci credo E' la torre di Babele ragazzi Non ci credo La torre di Babele Cazzo Ma sei diventato un bravo tutto di botta oh Rompicapo Ok Devo capire prima le modalità Se io ero a metà della partita Ma cosa? Se io a metà capito Io a metà del gameplay Mi rendevo conto Ma so ragazzi Non fanno per me le istruzioni Mi danno fastidio E non fanno neanche per Redez solitamente Che schifo di pezzo però eh Ah no Hola Forse ho fatto una cagata eh C'è una buona probabilità che io abbia fatto una gran cagata Ma posso forse rimediare al mio errore Tra l'altro adesso sono cominciato ad entrare nell'ordine di te che posso usare anche i miei poteri E infatti prima tu quel cavolo Qua devo essere Ho paura di quello che ho fatto Ok devo bloccare questa No Ok Fermo Piano Ragazzi questo è iper congelare Lo sai E' palpabile la sfida Eh no Io ho finito Però hai fatto un capolavoro Eh ma tu puoi farmi a pezzi Non lo so eh Se questo casca è finito Ok è andata 13 a 4 Ma ti rendi conto che è caduto Si è staccata proprio Si è staccata Ha smottato La tua torre ha smottato E allora ormai ho perso Anche se vinco ho perso No Si ma anche se vinco ho perso Anche se pinghi Anche se vinco ho perso Però noi comunque giocheremo con impegno Che cos'è sopravvivenza? Si La devo vincere perché Oh Sono due partite che Va fangulo Il cappotto proprio eh Però va bene va bene Ma comunque sto vincendo anche per via della primavera Diciamo la verità Perché la primavera ti da più spunti di crescita No perché il cappotto non lo voglio più io Lascio a te Allora Questo era veramente pessimo eh Allora aspetta che adesso faccio una cosa veramente stronza Si anche io Perfetto Bastardo Vedi l'avversario in 3D Towers cerca sempre di danneggiarti no? Ed è giusto perché è lì che si basa la competizione sul danneggiare E infatti l'avversario Ma cosa accade? Quando? Quando l'avversario ti vuole danneggiare ma fortuitamente Ovvero per culo puro culo Tu ottieni ecco Per esempio in questo caso Non gli ho fatto un cazzo perché Anzi mi hai migliorato la situazione Il bello che sto diventando abbastanza schillato da guardare dalla tua parte Eh lo so me ne sto accorgendo lo sai eh Me ne sto accorgendo perché sei diventato maggiormente figlio di indrocchia come si direbbe da questa cosa Eh ma non abbastanza perché se avessi aspettato un attimo ti avrei inculato a sangue con quel pezzo là Il problema è che uno deve pensare anche ai fatti suoi Non può? Ok Ma vaffanculo Ecco per quello che dicevo prima Cioè tu cerchi di danneggiare ma a volte fai un favore grande grande all'avversario Beh io sto in difficoltà perché Sinergo è migliorato tutto di botte e non me l'aspettavo In realtà sto giocando seriamente perché non voglio più leggere commenti di controproduzione sulle mie capacità giocative Si dice così? Si Mi stavi impulando fortissimo No ho fatto una cagata Pensavo di aver usato l'incantesimo per me invece ho danneggiato te ma non ti ho neanche danneggiato a conti fatti Ok Eh ma non ti può capitare sempre roba buona Eh vabbè avevo un buon margine diciamo Ecco mi ho fatto una mezza cagata ma si può recuperare volendo Io non so cosa fare Oddio No la bibbia no la bibbia è bastarda No la bibbia è la cosa più stronza dell'universo conosciuto ma non è possibile che ti sia capitato tutta quella cosa a te io Guarda Guarda che bel cappotto Hai vinto Hai vinto Un bel piumino ti ho fatto però Due cappotti consecutivi Bravo No devo dire la verità sei stato bravo non ti posso dire niente Davvero Sono stato anche corretto volendo eh Corretto si col retto Capitando di la bibbia sul finale dai Non sapevo neanche cosa fosse La bibbia è la cosa più a caso devo essere onesto La bibbia è la cosa OP Ti mandavo i punti interrogativi e ti usciva proprio il pezzo che ti serviva da inzaccare un punto Esatto No ma perché mi sono lasciato molto margine di lavoro E io a volte facevo l'errore di lasciarmi delle situazioni estreme che se non mi usciva quel pezzo là me la piavo in culo E invece Ho imparato a lavorare in modo tale da lasciarmi almeno 3 opzioni E quindi quando Mi ha messo in difficoltà Sentite sentite La tattica di gioco Queste sono le tattiche di gioco Che vogliamo vedere Il prossimo cinema Eh Non mi inguli la prossima volta Alla prossima Alla prossima Alla prossima